Fai altro nel tuo tempo libero, oltre a risolvere glitch nel gioco? Beh, mi pare ovvio, mi piace giocare con i poparsi Questo lo chiamo un S.A.S. Classic Questa lo chiamo S.A.S. Avvolulazione 13 Beh, dopo un po' puoi diventare noioso Beh, quando succede, semplicemente le vado a prendere altre Tu e tuo fratello, siete ancora in stretto rapporto? Io... parliamo di qualcos'altro Lo sai che il buco del tuo naso è un cuore al contrario ed è adorabile Oh, non vedermi accanto, signor buccioso Dimmi, O-1, ti dispiacerebbe essere disprezzato come uno dei cattivi in proprio uno degli altri universi? Ah, signor negativo? No, ma io sono un ragazzo positivo Faccio soltanto un lavoro senza ringraziamenti E sì, nessuno mi ha assunto Ho soprattutto deciso di cominciare E se tu devi impegnarti in un lavoro E se tu devi impegnarti in un lavoro Vale la pena a goderselo A chi interessa se mi tengo un paio di tropei? A chi interessa se alcune sporchiacche da muoio? E' tutto un buon divertimento? E beh, se pensi che questo mi rende un cattivo Beh, che sono io per giudicare Ok Allora, spero che vi sia piaciuto questo doppiaggio Che ho fatto da solo Di Error Tale Spero che vi possa piacere Allora, questo non è confermato Questo dipenderà tutto da voi Se vedrò un impatto forte dei mi piace Allora lo porterò di sicuro Però sappiate che se non portate Se non portate come minimo Una quota considerevole di mi piace Non lo porterò Perché è molto difficile da fare E mi rega tempo e spazio Quindi... E quindi aspetta a voi Blade vi saluta O meglio, Hunter Blade e Hunter vi salutano Alla prossima Bye Ciao 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 Ciao